L'autonomia non è qualcosa che appartiene ai tedeschi o ai ladini, appartiene a tutti noi. È un'autonomia condivisa. Abbiamo spesso il problema che Roma approva delle leggi che non sono adatte per noi, perché siamo molto diversi dalla Sicilia o dalla Toscana o da altre regioni. Questo ci costa tempo e denaro. Il nostro statuto di autonomia è del 72, cioè compie i 50 anni. Ci vuole un lifting, perché la situazione economica e sociale è cambiata in questi decenni. Noi combattiamo per nuove competenze. Per esempio, ci vuole l'autonomia finanziaria, la competenza sull'immigrazione, l'autonomia dell'energia. E ci vuole anche la competenza di poter contrattare contratti collettivi a livello provinciale. Dobbiamo avere la possibilità di fare dei contratti che prevedono dei salari molto più alti, che rispecchiano i costi di consumo della nostra provincia. È quello e tant'altro che ci interessa e per il quale combattiamo. È l'autonomia che deve essere rafforzata. Ci vuole più Bolzano e meno Roma. Grazie a tutti.